Sono grasso, lo metti così, con i miei ginocchi in culo, allora vi prometto che dimagrisco, entro quando? Allora io a luglio sono magro, io a luglio? Sì, però solo a luglio. Però secondo me il 16 maggio tu sarai ancora più magro perché dovrai essere in forma alla corte degli angeli a Verona per l'inaugurazione della stagione estiva, insieme ad Alan Caligiuri per il magro, che è così nella prova costume spacco. Esatto, perché saremo in costume, noi lo anticipiamo in esclusiva, saremo in costume. Infatti Fabio Alisei sarà in costume, tu sarai in tanga perché hai anche un bel culo, se io in regia sono talmente nero non mi si vedrà. Mette il costume in faccia. Metti un costume di Batman. Queste potrebbero essere delle bufale, però l'unico modo per verificare che lo siano è di venire il 16 a corte degli angeli a Verona. Capito? Eh? Non ci fate incazzare qua, eh? Non sono così grasso, eh? È la camera. Mettiti di profilo. È una telecamera. Ah scusami. Ciao, ci vediamo il 16, ciao!